buona giornata a tutti ascoltiamo quest'oggi nella lettura del vangelo durante la messa le ultime parole del vangelo secondo giovanni e mi fermo in particolare sulle ultime parole che gesù rivolge a simon pietro tu seguimi quest'ultima pagina del vangelo giovanni estremamente articolata ricca e stupisce il fatto che le ultime parole che gesù rivolge a pietro sono tu seguimi come sintesi del cammino di vita di pietro come prospettiva sul futuro e questo penso possa far bene anche a noi il nostro cammino di fede dell'imparare andare all'essenziale come discepoli del signore gesù e allora sentiamo rivolte a noi lo stesso appello lo stesso invito tu seguimi facendo memoria del nostro cammino di discepoli e guardando con fiducia il nostro futuro buona giornata a tutti